Ciao a tutti ragazzi, in questo video vi voglio augurare tutto il bene del mondo, buon Natale, buone feste, buon 2018! Vi auguro che voi trovate la vostra strada giusta, la vostra serenità e vi auguro soprattutto tanta tanta amore che credo che è la cosa più importante della vita. Questo video è un video dove le mie amiche del mio gruppo WhatsApp vi auguro buone feste, buon Natale, buon 2018, siamo 5 ragazze, quindi vi ricordo che è praticamente un gruppo molto unito, che io ci tengo un sacco queste ragazze, quindi passate a vedere anche il loro video perché questo video sarà anche nel loro canale. Un bacio da Baciu e vi voglio bene, grazie! Ciao amici, ci siamo riunite oggi per farvi auguri di Natale, spero che sia un 2018 pieno di salute, pieno di soldi e che tutti i vostri sogni e i vostri proietti diventino realtà. Noi siamo un gruppo di Youtubers, abbiamo anche il gruppo di WhatsApp e abbiamo pensato di farvi questo piccolo video, prima di tutto per il supporto che ci date sempre, i vostri commenti e ci siete sempre lì e vi auguro anche alle ragazze che fanno questo video un mondo di bene, che sia un 2018 prospero e soprattutto con tanta salute. Io sono Heidi, il mio canale si chiama Heidi Fatto Tu e tratto un po' di ricette di cucina, riciclo creativo e altri tutorial. Niente, vi auguro un mondo di bene in questo 2018! gioco. Ma cos'è Natale? Capodanno? Si sta avvicinando! Good morning sister! Oh my god! Tanti tanti auguri di buone feste e di buon inizio anno a tutti i miei iscritti! Ringrazio tantissimo le mie amiche che hanno reso possibile ciò, il mio sali... saluto... saluto... saluto per voi! Il mio canale è Luca Meri de Cadella, dove potete trovare vlog pazzi, guide di turistiche oratrici, vlog di tutti i giorni con madre e figlio che sentite appunto! mando un bacione a tutti voi, ai miei valorosi iscritti che io seguo uno per uno ragazzi, seguo uno per uno! Tanti auguri, auguri di buone feste! vi amo e vi love! Ciao! Ciao ragazzi! Questo è un video in collaborazione con tante mie amiche, abbiamo voluto fare un messaggio a catena, dando gli auguri a tutti quanti! io sono Mari di grafica e arte e faccio tutorial di grafica arte, tutto quello che c'è dell'arte fai da te, quindi con tutta la mia arte voglio darvi i miei più graficosi auguri! e ora vi saluto e mi raccomando andatevi a iscrivervi al mio canale e al canale delle altre ragazze! Ciao! Buongiorno ragazze! Allora, un video super veloce per augurarvi insieme alle mie amiche un felice Natale, un sereno anno nuovo, sperando che quest'anno porti tante cose positive, tante cose che ci rendano felici, al che sia un anno senza nessun problema, ovviamente è un po' impossibile, però noi ci speriamo sempre! trovate i link di tutte le mie amiche giù nell'info box, spero che andiate a seguire anche loro perché veramente sono delle persone stupende! io vi mando un grosso bacio e vi faccio ancora tantissimi auguri! Ciao! Volevo augurare a tutti voi un Natale sereno, in compagnia delle persone che vi vogliono bene, questo è un video che ho fatto in collaborazione con le mie amiche di Youtube, di un gruppo di Whatsapp, in cui ci vogliamo veramente tanto bene, io vi auguro veramente tutta la serenità e la pace nel vostro cuore, per me il Natale è molto bello e molto importante perché è la nascita di Gesù, quindi per me ha un valore molto molto importante che va al di là delle feste e del mangiare, e mi raccomando mangiate poco perché poi vi fa male, vi mando un grandissimissimo bacio e buon Natale! Ciao!